Buongiorno amici della Clessidra e ben ritrovati ancora una volta sul mio canale. La domanda del giorno è la seguente. Qual è la giusta cifra da spendere per un vintage? La risposta dopo la sigla. Bene amici bentornati. Dunque oggi cercheremo un po' di dare una giusta risposta o proverò a dare quella che è la mia considerazione in merito alla domanda quanto è giusto spendere per un vintage? Beh, negli ultimi tempi abbiamo tutti quanti notato che le quotazioni dei vintage stanno schizzando letteralmente alle stelle. Questo perché c'è più richiesta, ci sono orologi rari eccetera eccetera. Ma la domanda che spesso molti di voi si pongono è giusto spendere così tanto per un vintage? Beh, c'è da dire una cosa che quando si parla di vintage ci sono sempre diverse considerazioni da fare. La prima cosa che dovete completamente dimenticare quando acquistate un vintage è il discorso qualità-prezzo. Questo perché? Perché gli orologi di un tempo, è chiaro, non possono avere quelle che sono le caratteristiche tecniche degli orologi moderni, dei segnatempo moderni. Poniamo il caso di qualche diver. Beh, è chiaro che 50 anni fa non esistevano i diver mille metri e adesso ci sono. Quindi bisogna anche capire che se andiamo a comprare un vintage lo facciamo per quello che era allora, perché magari allora era, sparo così, un esempio pratico, era il primo diver al mondo. Quindi stiamo andando a comprare quello che è la storia dell'orologio. Perché magari ha compiuto qualche impresa fantastica, come ad esempio il Moonwatch. Sappiamo tutti l'orologio che è andato sulla Luna, beh, se andiamo a comprare un vintage, il Moonwatch, compriamo non solo quelle che sono le caratteristiche tecniche di quell'orologio, che sicuramente sono di alto livello, ma andiamo a comprare la storia che c'è dietro. Ma anche in questo caso bisogna stare attenti. Perché quando si parla ad esempio di Reduced, beh, lì stiamo comprando sempre un ottimo orologio, per carità, ma è qualcosa che ha un riflesso di storico. Quindi anche in quel caso bisogna capire se è giusto spendere una cifra molto importante o meno. Altro fattore al quale bisogna prestare attenzione è ovviamente la rarità dell'orologio. Magari pur essendo un orologio che non appartiene a qualche grande casa costruttrice, tipo Rolex, Omega, eccetera, eccetera, chi più ne ha più ne metta, è un modello che è stato costruito in pochi esemplari, quindi fa gola, è raro e di conseguenza quelle che sono le sue quotazioni schizzano alle stelle. Un altro fattore da tenere in considerazione ovviamente è il design dell'orologio, le caratteristiche estetiche. Io oggi indosso un, ecco qui, uno Zodiac Astrographic, un orologio molto particolare perché ha le lancette che sono praticamente costruite con tre dischi trasparenti, sul quadrante sembra che le lancette le ore stiano levitando. Oltre a questo vi posso citare anche il bellissimo Amida DigiTrend, è un vintage che abbiamo visto anche in una recensione, ha un design molto esclusivo, anche se ha un meccanismo un pochino diciamo particolare, mettiamola così, non è uno dei migliori, però ha una forbice di mercato che va dalle 800 euro sino anche alle 1200, perlomeno sono queste le quotazioni che ho riscontrato io su eBay. E questo perché pur non avendo caratteristiche tecniche molto importanti, eccelse, beh è un orologio che ha un design originale. E di conseguenza anche se Amida non è una delle case più famose al mondo, beh ha una quotazione molto elevata. Bene ragazzi, oggi il video è un po' breve perché è Pasqua, ne approfitto per dare gli auguri a tutti quanti voi, alle vostre famiglie, anche una buona Pasquetta e domani spero vi possiate divertire un po' all'aperto, un po' d'aria fresca fa bene a tutti. Dalla clessidra di Ema è tutto, mi raccomando iscrivetevi al gruppo Telegram, al canale se non siete iscritti, un bel like che è importantissimo, ci vediamo appena possibile con la clessidra di Ema. Un abbraccio a tutti quanti e ciao! Grazie a tutti!